E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterside Crypto io sono Emiliano e anche questa mattina torna il nostro consueto Morning With Crypto l'appuntamento che ci accompagna dal lunedì al venerdì con le principali news di mercato con quello che è successo nella notte Andremo a vedere cosa sta accadendo a Meta perché Facebook e Instagram hanno introdotto una funzionalità importantissima da oggi per gli Stati Uniti quindi per i residenti appunto di quelle zone ma come sempre prima di partire il mio invito è uno quello di lasciare un bel mi piace qualora questi contenuti fossero di vostro interesse e di vostro gradimento a me aiuta tanto quel canale e se siete nuovi ricordatevi anche di iscrivervi col click sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati Detto ciò non perdiamo altro tempo e partiamo. Partiamo con la prima news appunto quella di Facebook e Instagram che permetteranno a tutti gli utenti di connettere i loro crypto wallet ai social di riferimento. Questo perché? Perché fa parte della funzionalità che è stata appunto già annunciata ovvero il supporto agli NFT quindi ai non fungible token Quindi la possibilità di condividere in maniera a trust tra virgolette quelli che sono i propri NFT facendo vedere effettivamente mostrando l'effettiva proprietà dello stesso perché sappiamo no? Che spesso anche come immagini di profilo si andava a utilizzare delle immagini di NFT o anche magari spesso le troviamo delle Bored Apes In questo caso si va proprio a sincronizzare il proprio wallet e quindi dimostrare anche l'autenticità se vogliamo del proprio NFT e che quindi quell'NFT lo possediamo. Molto interessante perché porta tutto quel concetto di cui abbiamo già parlato più e più volte di Mass Adoption di portare sempre questa tecnologia crypto in generale che agli NFT vi piacciono o meno all'interno della quotidianità ok? Perché è ovvio che questi social rappresentano la quotidianità di milioni e milioni di persone utilizzandoli tutti i giorni e quindi aiutano insomma a secondo mio parere sempre il settore un po' a crescere e a capillarizzarsi all'interno di tutte le cerchie di mercato. Dobbiamo sempre pensare che chi segue crypto tutti i giorni è una nicchia volendo o non volendo e quindi di base dobbiamo cercare sempre di portare questo settore ai più sconosciuti ok? Ed è l'unico modo a mio parere. Quindi molto bene secondo me e vedremo un po' come andrà questa integrazione che quindi va effettivamente live. Un'altra news che in realtà è un follow up rispetto al caso SEC e Ripple di cui abbiamo già parlato perché abbiamo visto Ripple andare veramente in un forte pump dovuto un po' a cercare di risolvere diciamo la situazione con la SEC. Tutto ciò nasce dal fatto che praticamente la SEC ha fatto causa Ripple affermando che la sua vendita di token avvenuta ancora anni e anni prima fosse in realtà non una vendita di token ma fosse un raise di capitali quindi la vendita di security. Quindi banalmente azioni ok? Mettiamola così in maniera molto semplificata e quindi insomma ha fatto causa a Ripple per questa cosa. Era successo un po' di tutto nel senso che la Coinbase ha divistato Ripple proprio per non andare contro le decisioni della SEC e effettivamente la cosa ha preso un po' una svolta in questo periodo e ultimamente sta ancora andando a favore di Ripple. Proprio perché il giudice distrettuale ha imposto di nuovo alla SEC di consegnare i documenti legali riguardo in realtà a uno speech che è stato fatto nel 2018 riguardo le cripto da parte del loro di Bill Hinman. Questa cosa qua appunto dovrebbe contenere probabilmente in discrezione dicono del materiale molto molto utile nella difesa di Ripple e che quindi di base possa veramente far girare la situazione a favore di Ripple. Chiaro che si tratta di speculazioni però vediamo proprio come la SEC abbia fatto e stia cercando di fare in tutti i modi per non consegnare questo materiale alla controparte quindi alla Ripple Labs e quindi probabilmente lì c'è un po' la chiave di questo caso e probabilmente potrebbe dare un grande vantaggio a quello che è la posizione di Ripple Labs. Staremo a vedere anche qua, molto interessante comunque tutta questa diatriba e vi fa capire a mio parere sempre come le cripto siano comunque un'entità che si vuole cercare di lasciare molto nella nebbia, non un po' così però ragazzi ricordatevi che stiamo parlando di un settore che capitalizza miliardi che è i trillion, siamo in una capitalizzazione di 909 miliardi in questo momento in cui vi sto parlando. Quindi stiamo parlando di roba comunque sia molto grossa. Detto questo andiamo a vedere i principali gamers e losers di CoinMarketCap. Troviamo un USADLEO che fa un più 10%, non so sinceramente come mai però sappiamo essere l'exchange token di Bitfinex. XRP un più 11% anche riguardo a quello che sta accadendo, Stellar di solito appunto segue a ruota più o meno quelli che sono gli andamenti di Ripple essendo un progetto diverso ma comunque collegato un po' nella mission se vogliamo come token, come chain. Maker 1 più 4, Decrid 1 più 4, Polygon Matic 1 più 3 e 60, XDC 1 più 3 e 51, quanti insomma e via discorrendo, null'altro. Tra i losers niente di particolare troviamo Pancake che fa un meno 3, Yota che fa un meno 3, Uniswap un meno 2 e Cusamo un meno 2 ma vedete i principali sono tutti derivanti dai 7 giorni precedenti che hanno avuto performance positive. Detto questo prima di passare sulle chart volevo ricordarvi che trovate qua sotto il link per il Discord quindi l'afterside home ufficiale dove veramente sono molto contento che l'ho scritto perché vedo veramente tantissima interazione, tantissime idee di mercato che vi state dando. In più c'è la call ogni giorno alle 12.30 in realtà domedì a venerdì c'è il launch meeting dove effettivamente c'è Luca che fa un sum up della questione di mercato tutto in maniera attualmente gratuita quindi io vi consiglio davvero di sfruttarlo. Siamo già oltre 550 umani qua mi segna quindi sono molto contento appunto perché è stato lanciato da domenica e l'avete presa alla grande soprattutto in bear market. Crescere è importante, studiare è importante, formarsi è importante e io spero che sempre che queste iniziative basate appunto sull'open source ok siano per voi molto 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 interessanti e utili da sfruttare. Quindi bene, bravi, grazie per il supporto. Chi non c'è ancora il link lo trovate qua sotto in descrizione. Detto questo passiamo un po' alle chart perché anche ieri è stata una giornata un po' di fake ok e siamo andati di nuovo in correzione sui 18.8 e poi siamo andati a recuperare. Abbiamo chiuso comunque in positivo di nuovo al di sopra del nostro supporto, vedete quanto sia importante sia questa era di liquidità che ho evidenziato ancora nelle giornate precedenti ma soprattutto questa trendline ok? O meglio più che trendline questo supporto, quest'area di supporto che in realtà ci stiamo ballando un po' intorno ma poi effettivamente ci tiene abbastanza galla. Lo vediamo bene appunto anche a livello orario che cosa è accaduto nella giornata di ieri appunto siamo andati in correzione alle ore 14.15 toccando un minimo sui 18.8 e poi siamo andati in v-shape recovery su questa move e siamo andati di nuovo in lateralizzazione. Questo a parer mio appunto perché dopo questo dump e questa BART completata abbiamo detto appunto tranquillamente si potrebbe andare in lateralizzazione senza particolari movimenti né up né down. Quindi tutto banalmente un po' uno scalp tra questi livelli di supporto e resistenza che stanno facendo un po' da spartiacque per il mercato. La stessa cosa vale per Ethereum che fa 1.334, lui in realtà è più schiacciato a livello orario dalla sua 200 lo vedete in maniera proprio molto evidente ok? Come questa area qui che è la 200 lo stia tenendo a ribasso. Il v-shape è arrivato anche per lui ma un po' meno forte insomma staremo a vedere insomma anche per lui che cosa ci aspetta. La cosa che volevo farvi vedere è un po' il recupero in chiusura di abbiamo, allora vediamo a livello daily perché mi interessa di più. Abbiamo un po' di storno da parte di XY che è l'indice del dollaro americano. Attenzione perché siamo su un supporto importante per lui che è la 12 EMA e siamo andati anche a fondare in realtà spesso sulla 26 anche la 50. Abbiamo preso sia qua che qua, lo vedete qua e qua ok? E poi siamo andati in recovery. Ora il discorso è che la 50 si trova in zona 109 e abbiamo visto un bel recupero sia di sterlina ok? Che è andato a riprendersi dopo un minimo addirittura 1.03 sta andando a 1.11 e anche di euro che sta tornando in zona 0.98. Però potrebbe andare in prossimità di un lower high quindi potrebbe andare a fare anche questo ok? Un retest e una prosecuzione proprio perché potenzialmente potrebbe arrivare proprio qua il buy the dip sulla 50 e quindi questa cosa qua che potrebbe andare a essere inversamente correlata su euro sterline e le altre. Stiamo a controllare questo perché lo dico perché ci trattiamo di forex no ma solo perché abbiamo visto come effettivamente sia molto importante anche come correlazione con i mercati tradizionali e come essi poi siano correlati con queste fluttuazioni di fiat essendo i tassi interesse molto rilevanti in questa fase e come poi traslino su bitcoin. Quindi dobbiamo cercare di includere nelle nostre analisi sempre più fattori possibili per cercare di darci quella che è la migliore view possibile. Detto ciò io mi fermo spero davvero che questi contenuti fossero di vostro interesse e di vostro aggredimento se è così vi invito un bel like di supporto, iscrivervi al canale con clic sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati e noi ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!